Allora, partiamo dall'inizio. È facile fare marketing se sai come farlo e questo è il motivo per cui voglio parlare di tre semplici strategie che hanno utilizzato quelle persone che hanno raggiunto degli obiettivi ambiziosi e che sono riuscite a realizzare anche qualcosa di importante. Sempre dopo la sigla però. Oggi in realtà volevo parlare del modello AIDA e di come è cambiato per capire l'esatto funzionamento del principio della pubblicità. Ma ieri sera però, ora porta a porta, è venuto a trovarmi un amico con cui parliamo e discutiamo spesso di questi argomenti ma non soltanto di questi e mi ha regalato una perla di saggezza. Mi ha detto infatti Tullio, cerca sempre la differenza che fa la differenza. Sembra un gioco di parole ma in realtà è il focus su cui dobbiamo concentrarci se veramente vogliamo diventare delle persone di successo. E così provo a sintetizzare in tre punti quello che è stato il nostro discorso di ieri sera davanti il mestello della raccolta differenziata con una birra e una sigaretta in mano. 1. Vedi sempre le sconfitte come qualcosa da cui imparare. Bruce Lee ha trascorso tutta quanta la sua vita convinto che la sconfitta e l'errore fossero il primo passo per qualcosa di meglio. E così se vuoi costruire un'azienda di successo probabilmente ne fonderai prima qualcuna che non ce la farà. Allo stesso modo se vuoi diventare un cantante famoso probabilmente dovrai affrontare qualche concerto in cui ad ascoltarti ci sarà soltanto il fonico e alcune volte nemmeno lui. E anche se vuoi scrivere un best seller forse il tuo primo libro lo leggeranno soltanto gli amici. Quindi qualunque sia il tuo obiettivo ricordati sempre che ci saranno delle battute d'arresto, dei problemi, delle difficoltà da superare e purtroppo anche dei fallimenti. Non esistono le persone di successo che non abbiano mai fallito. Questo perché l'idea di successo che ci dà la società è assolutamente sbagliata e falsa. Fin da piccoli ci insegnano che il successo è l'esatto opposto del fallimento. Ma se vogliamo veramente diventare delle persone migliori dobbiamo prima di tutto imparare a vedere in ogni problema un'opportunità e dobbiamo imparare a vedere la sconfitta come fosse un nostro insegnante. Quello che i media ci vogliono vendere è l'idea del successo facile ma in realtà non è così, è falso, è una pubblicità. Infatti non esiste la pillola per gli addominali scolpiti o altrimenti io ne prenderei tre al giorno. Ma battutaccia a parte, pensiamo a Soishiro Honda. Lui costruiva anelli elastici per la Toyota. Arriva la seconda guerra mondiale e gli viene rasa al suono la sua fabbrica e così non ha più nemmeno i soldi per andare a lavorare. Poi lì si chiede ma come faccio a utilizzare ciò che ho per arrivare dove voglio e monta un piccolo motore che aveva a casa sulla sua bicicletta e la chiama Honda Dream Type A e due anni più tardi, esattamente nel 1948, fonda la Honda Motor Company. Ma pensiamo anche ad Abramo Lincoln. Non sarebbe diventato il sedicesimo presidente degli Stati Uniti se non avesse riprovato dopo il fallimento delle elezioni negli anni precedenti. Ma se arriviamo ai giorni nostri è servito un arcimilionario di nome Elon Musk a restituirci il nostro sacrosanto diritto al fallimento. Perché è proprio con la sua compagnia, la SpaceX, che ha dimostrato che l'errore è alla base ed elemento fondamentale di ogni esperienza. E in descrizione vi lascio il link a un video che dura poco più di due minuti che è il riassunto dei suoi sette anni di fallimenti prima di riuscire a far riatterrare perfettamente integro il razzo Falcon 9 mantenendo così la sua promessa di riutilizzare i razzi per diventare competitivo anche nei lanci spaziali. Quindi? E quindi immaginatevi quante martellate di frustrazione ha dato Steve Jobs ai suoi primi prototipi dell'iPhone o immaginatevi anche quante madonne ha imprecato Michelangelo prima di poter esclamare davanti al suo Mosè e mo parla. Tutto questo per ricordarci quello che dicevano i nostri nonni e cioè che sbagliando si impara. E allora io li mi chiedo ma quand'è che abbiamo iniziato ad avere paura o peggio vergogna dei nostri fallimenti? Perciò ricordiamoci di lavorare su noi stessi per superare il divario tra ciò che siamo e quello che veramente vogliamo diventare. Perché i sogni si possono realizzare davvero a patto però di esserne fermamente convinti di assumerci le nostre responsabilità non puntare il dito contro nessuno e soprattutto non cercarci delle scuse. Dobbiamo imparare dai nostri fallimenti correggendo ciò che abbiamo sbagliato. Dobbiamo cambiare strategia ma non dobbiamo mai cambiare l'obiettivo. 2. Impariamo dalle persone migliori di noi Alessandro Magno è stato allievo di Aristotele Giotto è stato allievo di Cimabue e anche Michael Jordan è stato allenato da Phil Jackson e potrei ancora continuare con gli esempi. Quindi dobbiamo frequentare le persone migliori di noi le persone che hanno raggiunto gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere e se non possiamo farlo leggiamo i loro libri seguiamo i loro seminari ascoltiamo le loro interviste perché l'ambiente che frequentiamo e le persone di cui ci circondiamo ci influenzano tantissimo. In un articolo di qualche anno fa tre economisti rispettivamente dell'Università di Atlanta l'Università di Singapore e della Federal Reserve Bank di Philadelphia hanno esaminato le abitudini dei vicini di casa di una coppia che aveva vinto alla lotteria e hanno scoperto che questi vicini di casa hanno cominciato ad acquistare beni e prodotti che in realtà non gli servivano. Questo studio dimostra che i loro acquisti sono stati influenzati dalla improvvisa ricchezza della coppia che aveva vinto la lotteria e quindi questo cosa significa? Significa che l'ambiente che frequentiamo ci condiziona positivamente oppure negativamente. Dobbiamo perciò trovare delle persone migliori di noi dobbiamo circondarci di mentori e non di persone che amano lamentarsi. Imprenditori, musicisti, leader, artisti, sportivi sono tutte quante persone da cui noi possiamo imparare tantissimo perché non sono superuomini hanno paure, hanno dubbi, hanno limiti ma hanno una cosa che li accomuna che noi dobbiamo essere bravi a carpire e a rubargli ed è la volontà di raggiungere il loro obiettivo superandosi. Dobbiamo perciò sviluppare una mentalità curiosa che ci spinge a imparare ogni giorno contro invece l'abitudine della maggioranza delle persone che una volta che ha conseguito la laurea o magari trova un lavoro stabile smette di imparare. Noi invece dobbiamo porci sempre delle domande e dobbiamo assumere l'atteggiamento dell'allievo tutta la vita perché dobbiamo diventare oggi migliori di quelli che siamo stati ieri ma soprattutto dobbiamo diventare domani meglio di quello che siamo stati capaci di essere oggi. Terzo, agiamo prima di essere pronti. Le persone di maggiore successo infatti agiscono prima di essere pronte mentre invece la maggioranza delle persone fa l'esatto contrario. Quindi se hai un'idea agisci prima che arrivi qualcun altro a realizzarla prima di te questo non vuol dire andare allo sbaraglio significa prepararsi al meglio ma poi significa anche agire perché tutto quello che servirà lo impareremo strada facendo sbagliando ma correggendo i nostri errori quindi quello che serve assolutamente è una grande forza di volontà l'obiettivo ben focalizzato e poi una grande dose di umiltà per correggerci durante il cammino. E penso ad Alex Bellini che ha raccontato che prima di mettersi in barca per attraversare l'oceano atlantico si è reso conto di non aver mai remato nella sua vita. Sembra assurdo vero? Quando iniziamo qualcosa di nuovo è normale avere paura e non conoscere tutto quello che serve ma la verità è che non serve perché non esisterà mai il momento in cui saremo completamente pronti per affrontare una nuova avventura. Non mi ricordo chi lo diceva ma se sarai pronto per qualcosa vuol dire che sei in ritardo. Secondo Jim Rohn non devi essere grande per iniziare ma devi iniziare per provare a diventare grande. La capacità quindi di agire nonostante la mente ci dia sempre delle motivazioni per non farlo è un'abilità che dobbiamo sviluppare. Dobbiamo iniziare a prendere la sana abitudine di fare ogni giorno qualcosa che ci spaventa perché la paura è una forza che ci rende capaci di affrontare grandi battaglie ma che rischia anche di farci diventare degli schiavi. L'uomo che ha paura senza che ci sia un pericolo inventa il pericolo per giustificare la propria paura quindi dobbiamo uscire da quella che gli psicologi chiamano la nostra zona di comfort che altro non è che quello che conosciamo la nostra routine il familiare perché questo ci lascia seduti non ci fa andare avanti non ci fa avanzare soprattutto non ci fa diventare migliori. Ora se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere mi piace iscrivervi al canale cliccare sulla campanella e se siete vicini di casa vi aspettiamo il venerdì sera orario porta a porta con una birra e una sigaretta in mano. Ciao Ciao